Dopo la manifestazione con 10.000 persone in Piazza Maggiore lo scorso 7 dicembre ho toccato in due settimane 45 comuni da Piacenza a Rimini e in tutte queste occasioni ho trovato tanto entusiasmo, passione, voglia di partecipare e mi avete chiesto come sia possibile dare una mano e da voi sono venute due idee che voglio qui rappresentare. La prima, una call per tutti i volontari, chi voglia in questo ultimo mese di campagna elettorale arrivare a vincere questa sfida dando il proprio tempo libero, le proprie idee, la propria passione per provare a fare il meglio possibile. E la seconda è quella di una raccolta fondi, un vero e proprio crowdfunding affinché chiunque con qualsiasi cifra che vuole destinare possa essere reso protagonista di questa bellissima avventura e per fare tutti insieme un passo avanti. Grazie a tutti!